ci siamo siamo pronti per lo sgarro del pancake abbiamo le farine d'avena abbiamo la guarnizione abbiamo il syrup zero calorie e allora per fare una torre 10 pancake più o meno una bella torre gigante più o meno ci vorranno intorno ai 300 grammi di farina d'avena oggi uso quella cioccolato caramello direi che ci siamo ottimo e adesso che abbiamo messo 300 di albume non mettiamo tutto ottimo arcipignolina mai mischiato così tanto albume come misura facciamo questa qua piena questa piena due volte due volte due volte due volte due volte a posto la torre di babele conta 12 pancake fatti a misura un po perché riescono a stare stabili domani ce li mangiamo il pancake supererà più o meno i 3 kg secondo me domani ci prestiamo a mangiare questa bellezza questo qui il choco butter che sarebbe oreo proteico c'ha pure le praline c'è pazzesco ci siamo ragazzi il momento di mangiarsi la torre di babele è arrivato ci apprestiamo ce la dividiamo pezzo per pezzo ma mangerò fino all'ultimo dischetto partiamo ah Gesù da qua da qua da qua fa paura il segreto è il segreto è dividere gli ingredienti pazzesco ma stiamo già facendo scendere questa torre qua la parte finale la lasciamo per ultimo, ma questa la stiamo già facendo scendere piano piano ci mangiamo tutto ottimo siccome inizierò a essere pieno qua permette di stampere 3. Gli questo è per la cestina che non ha fede nella mia capacità di stomaco il segreto è come gli oli che iniziano, devi bere alla fine, non devi mai bere perché se bevi ti riempie appena finisce la quarantena amici ci spariamo sushi un goccino di tè vero ce la facciamo 14 minuti e siamo a un buon punto ce la faccio, ce la faccio qua la situazione comincia a verificarsi abbastanza di pienezza però pensare che era così queste sono parti difficili, vabbè sono grossi rai del pancake cazzo per un po' dolce non fai vedere io veramente non so come Thomas anche li fa mangiare se la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio solo questo mi separa dal traguardo e il prossimo che mi deve battere deve fare 13 piani di pancake almeno 2 kg di albume ce la puoi fare, ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare non ce la fai sono pienissimi qui la situazione esprime disagio la torre era qui ci siamo cameriere motores chi non è capo come si fa non ne mangiuniamo non ne mangiuniamo non ne mangiuniamo Sto pensando Secondo me Thomas Angry è un fake Qui l'ho visto E se vuole venire a cercarmi Sono qua a San Massimo Verona Non chiedemi più ricette di pancake Poi non ne faccio mai più Ma non vuoi buttarlo giù con l'acqua Vorrei morire Ho male Non so dove K.O. tecnico Knock down Questo è quello che è rimasto Sono strafato di zuccheri Un anno finito Non so dove